E il primo vero bivio della stagione è il momento dei primi verdetti per le protagoniste del campionato di eccellenza, impegnate domani nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Lettanti. L'abbinamento più interessante del turno inaugurale è quello tra Omnia e Corato, matricole sì, ma entrambe con rose in grado di puntare alla promozione in Serie D. Il decisivo confronto che svelerà il nome della squadra qualificata ai quarti e in programma domani pomeriggio con inizio previsto alle ore 15.30 al Città degli Ulivi di Bitonto. L'ago della bilancia per il momento pende dalla parte dei coratini di Giuseppe Scaringella, vittoriosi per 4-2 nei primi 90 minuti. L'Omnia, per continuare il proprio cammino nella manifestazione che assegna la promozione diretta attraverso un percorso nazionale, in pratica ha l'obbligo di vincere, almeno con due gol di scarto. Situazione molto simile nel match tra Barletta e Molfetta Calcio, che si giocherà sul sintetico del Manzi Chiapulin. I baresi partono con il 3-1 maturato dieci giorni fa sul neutro di Terlizzi, si ritroveranno di fronte questa volta al comunale di Trani, invece Vigor e Unione Calcio Bisceglie. Qualificazione decisamente in bilico in virtù dell'1-1 dell'andata al termine del match, andato in scena sul sintetico di Ruvo. È stata rinviata la prossima settimana invece la sfida tra USB Tonto e Vieste. Scenderanno regolarmente in campo domani pomeriggio le altre otto realtà di eccellenza con i seguenti abbinamenti di Coppa. Casarano, Aradeo, Galatina, Fasano, Gallipoli-Otranto e Novoli-Avetrana.